Gli ultimi appuntamenti organizzati dal Partito Democratico e nello specifico i banchetti nelle piazze italiane sono state l'occasione per discutere e confrontarsi sugli importanti appuntamenti che caratterizzeranno il 2016 ed i vertici del PD si sono incontrati anche a Cosenza, città in cui si andrà al voto in primavera. L'obiettivo è ritornare al governo del capologo Bruzio e per farlo il Partito Democratico punterà su un'ampia coalizione. Il punto non è trovare gli uomini o l'uomo che guidi questa città, il punto è innanzitutto pensare a una grande coalizione, ad un grande progetto e poi immaginare o attraverso una scelta unitaria o attraverso le primarie di scegliere un uomo che dia gambe insieme alle altre gambe al progetto del Partito Democratico e del centro-sinistra in questa città. Certo, noi non rinunciamo all'idea che il Partito Democratico debba essere la guida nei nostri territori per il cambiamento e la sfida di governo e quindi ci confronteremo con tutti a cominciare da questa mattina, ma prima la coalizione, il progetto, poi penseremo ai nomi. Quindi anche aperture ad altri partiti, insomma a forze politiche diverse dal Partito Democratico? Assolutamente sì, se non ci sono grandi coalizioni non si vince, c'è bisogno di fare grandi coalizioni attorno a progetti però, non a schemi di potere. Se siamo capaci di fare questo io credo che noi non solo vinceremo ma governeremo anche bene.